Questo non cambia nella sostanza quello che è l'assegnazione definitiva della gara perché c'è un ricorso pendente al TAR sul merito del documento PEF presentato da Autolinea Toscana. Noi entriamo nel merito, quando siamo stati in grado di poter verificare il documento con gli accessi e gli atti ci abbiamo trovato anomalie, numeri che non sono supportati da formule e grave è anche il fatto che il PEF è stato presentato il 2 di marzo su una data di presentazione ultimativa che era il 28 di febbraio. Su questo c'è il ricorso al TAR. Il TAR entrerà nella discussione di merito il 26 di febbraio per cui siamo ben lungi da poter affermare oggi, da dire oggi che la gara è stata assegnata definitivamente.